Incidente all'alba sulla strada regionale 88, poco dopo il cavalcavia dell'autostrada, per quanti da Rovigo, si dirigono verso l'Indinara, sempre nel territorio del capoluogo. Secondo i primi riscontri, un giovane conducente, di ritorno dal turno di notte, è uscito di strada, schiantandosi contro un platano e finendo con l'auto pesantemente danneggiata e ribaltata nel campo. Sul posto sono immediatamente intervenuti il suo M118 e il personale dei vigili del fuoco, oltre alla polizia locale. Nell'accaduto non sarebbero coinvolti altri mezzi. Per fortuna non ci sono state conseguenze di rilievo per il giovane, uscito in maniera autonoma dalla vettura. Al conducente sono comunque state prestate le prime cure dal personale di soccorso, mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza il mezzo incidentato e gli uomini della polizia locale procedevano ai rilievi per chiarire la dinamica dell'accaduto.